Ciao a tutti, vedi che bella maglietta che ho? Me la regalò il mio amico Stefano De Bologna. Ciao Stefano, sono chi mi so perché è il Dante e il Dottor Frendolo e ancora via alle Olimpiadi, via per la Russia, ho provato a telefonare, però non sono buoni per trovare collegamento né niente, ho anche mandato via Maurizio Doro che va via per la Siberia a vedere se è buono di trovare lì, solo che questo qua va via bicicletta, chissà quant'è che gli mette, allora ieri c'era, ho fatto, sai che fai anche a voi quando prima di andrò in Salve a andare alla televisione, ho fatto zapping, ho fatto zapping su per la televisione, no? E a un certo momento, probabilmente ho qualche tasto di pul, è venuto fuori Al Jazeera, e Al Jazeera era Dio, ma veramente, era Dio che mandava il servizio in diretta, il servizio della discesa che ha fatto il Dante Gross, guardate cosa che era. Stessa roba, stessa roba, stessa roba, stessa roba, me la combina anche il dottor Frendolo, e invece di essere via che lavora, le via che si diverte, che fa i bagni, non so, guardate il filmato che ho visto su Al Jazeera. Allora, intanto aspettiamo che questi chi venivano di ritorno, la notizia della settimana l'avevi da Riva del Garda. Allora, lei è questa, lei è del gemellaggio che ha fatto Riva del Garda con il paese della Calabria, Riccadi. Allora, l'era un progetto del Ministero, dello sviluppo economico, dove aveva delle motivazioni per questo comune della Calabria, che l'era vista come un'eccellenza nel coltivare e sviluppare tutti i servizi. Allora, il sindaco deriva, l'ha messo insieme il segretario comunale, i due dipendenti, e io è partito subito per le Calabrie. Io arrivai, il paese si chiamava Riccadi, io arrivai in Calabria, loro si aspettavano la banda con le maggiorete e tutte queste cose qui, e invece era solo i carabinieri che mettevano i sigili al comune che era a Riccadi. Allora, mi sono domandato, ma prima di camminare e di andare in zoo, ma non poteva fare una telefonata? E il mio amico Vinicio mi dice, tu sei proprio un semplice, guarda che qui da Riva, il mio amico Andrea, gli ha telefonato, ma come avrei fatto? Guarda lì, mi dice, gli ha tosci il telefono, gli ha fatto il numero, pronto, gli ha fatto il numero, gli ha detto, pronto, qui Riva del Garda, dall'altra parte del telefono, gli ha detto, qui è Luciardone, probabilmente qui da Riva, gli ha detto, Luciardone, sarà il cognome del sindaco del paese, no? Ora gli è partito di Bala, gli è partito e noi subito in zoo. Allora, mi dicevo, mi penso una roba, il sindaco di Riva, lei anche a mio amico, caro Adalberto, tu hai visto domenica di sera, inrabbiare, ma inrabbiare al Tg3, al telegiornale regionale, ma non ti devi toglierla di queste cose, ma lascia perdere, cosa che sia, ma pensa a tutte le erogne che ti fa la tua maggioranza dentro un comune. Allora, e dopo, pensa che è una roba, da chi è poco, ti andrà a fare polenta e mortadella insieme al tuo amico Renato Veronesi, no? E dopo, io, per il resto, ma la roba più semplice che ti hai da farla è, c'è ma quelli di Arco, te c'è ma quelli di Arco, loro, io gemellai con roccella ionica da anni e anni, no? Mi metti insieme, fin, pulmime, risparmiare così, risparmiare sulla benzina e risparmiare anche le figure di **** che potete fare tutti quanti insieme. Alla prossima, da Telegarda Trentino. Grazie a tutti.